fermi, questa è una raffina, datemi tutti i soldi aiuti ma amore, amore dove vai? brigatevi, menuzze aiuto dammi tutti i soldi, brigati prendi, prendi tutto quello che vuoi dove sono i soldi? dentro la borsa perché hai una borsa, dentro una borsa? ecco 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 ossigenata dove cavolo sono? dai dai un mestolo, perché un mestolo? dai che carino la torsa un phon non si sa mai no no, quella è molto utile, te la consiglio, prendila, prendila ci rinuncio qui entra ciao 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 ciao